Ciao ragazzi, so che ho già fatto un po' di video oggi, però mentre giocavo mi è venuto in mente che potrei fare un video in cui vi mostro delle foto carine che potete fare qua su Star Stable. Uno, che ve la faccio vedere subito, è che andate subito al canter e appena inizi a saltare con la guarda spazzatrice fai la foto. Ecco, non è venuta però... Ecco, guardate. Vedi, stava per saltare, però ho fatto la foto, quindi diventa una bellissima impennata, diciamo. Quindi è una bellissima foto da fare, assolutamente. Poi seconda, quando il vostro cavallo sta per tornare, mi ripeto dal salto, guardate, ora spazzatrice salto. Quando sta per mettere anche le gambe posteriore per terra, fate la foto e diventa tipo un kick, un calcio. La vedete? Molto, molto bella. Poi, fatevi pensare... Per ora non vi viene in mente niente, però se me ne vengono in mente altre ve lo faccio sapere. Iscrivetevi al canale, mettete like, ci vediamo nel prossimo video, spero che vi sia d'aiuto, vi consiglio di farle queste foto, perché sono veramente belle. Ciao!